Noi dobbiamo ripartire di qui, dobbiamo dire parole chiare, parole chiare rispetto al superamento della Bosse Fini che ha creato un problema enorme in questo paese, parole chiare nei confronti del superamento e dell'abrogazione di questo decreto Salvini. Questo è uno dei progetti che con Salvini, Ministro dell'Interno, sarà progressivamente smantellato. Bisogna difenderle perché queste sono le esperienze che fanno integrazione nella cittadinanza, nei diritti, nei doveri, nelle responsabilità e l'alternativa a chi soffre sul fuoco delle paure generando insicurezza con dei finti decreti di sicurezza è questa, quella di operatori, di persone che si mettono in mezzo e lavorano alla cittadinanza attiva. Noi dobbiamo ripartire di qui, dobbiamo dire parole chiare, parole chiare rispetto al superamento della Bosse Fini che ha creato un problema enorme in questo paese, parole chiare nei confronti del superamento e dell'abrogazione di questo decreto Salvini che genererà 100.000 irregolari in più in due anni e questo è inaccettabile. Dobbiamo invece stare al fianco di chi ogni giorno nei territori, a partire dai sindaci, lavora per l'integrazione nei diritti e nei doveri. Può dire che dall'assillo della sicurezza e del non lasciare il tema della sicurezza alla destra si riparte invece affermando la necessità di un elemento di solidarietà? Diciamo che noi dobbiamo avere l'assillo della cittadinanza, della piena cittadinanza nei diritti, nei doveri, nelle responsabilità e dobbiamo costruire con l'integrazione una scelta di cittadinanza piena. Io ho sempre visto che dove c'è vera integrazione c'è meno insicurezza, dove non c'è integrazione c'è insicurezza. L'obiettivo è molto chiaro, è ridurre lo spazio di integrazione e aumentare quello di disintegrazione, cioè il fatto di togliere la motivazione umanitaria tra le ragioni di inserimento in questo percorso, ce l'hanno spiegato puntualmente non chi fa contrapposizione politica ma chi dà una risposta. I numeri piccoli ma fondamentali per l'integrazione che produce questa struttura oggi vengono spostati con il prendere le persone e portarle nelle stazioni dei treni, negli aeroporti. C'è proprio quella situazione sulla quale ha fondato la fortuna un pezzo significativo di questo governo, cioè una situazione di insicurezza, di situazione fuori controllo, viene generata scientificamente. In più c'è una motivazione di fondo. La nostra Costituzione parla di riconoscimento delle persone. La Repubblica e lo Stato riconoscono le persone prima ancora della loro cittadinanza. Grazie.